Allora, si sente? Raffaele si sente? Fammi un centro per favore. Ok, bene, allora ti informo che questa amministrazione si è prodigata perché questo anno rimanesse impresso nella storia e quindi abbiamo ottenuto un annullo filatelico per immortalare proprio questo anno. Ringrazio veramente le poste italiane ma in primis, consentitemi, ringrazio la nostra concittadina, la dottoressa Cara Bucciarelli che si è stata adoperata, non la dedica nessuna parte ma la ringrazio, grazie Mara. E ovviamente ringrazio Renzo Gallerati che è stato un martello per arrivare a questa conclusione, ringrazio il direttore generale delle poste che abbiamo qui questa sera e al quale passo il microfono perché ci dia un saluto lui di persona. regatemi a una postazione che sta proprio a fianco alla chiesetta di Sant'Antonio dove e a fianco alla chiesetta di Sant'Antonio dove si è stata adoperata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Allora, si sente? Raffaele, si sente? Fammi un cento, per favore. Ok, bene, allora, informo che questa amministrazione si è prodigata perché questo anno rimanesse impresso nella storia e quindi abbiamo ottenuto un annullo filatelico che... Un annullo filatelico per immortalare proprio questo anno. E ringrazio veramente le poste italiane, ma in primis, consentitemi, ringrazio la nostra concittadina, la dottoressa Mara Bucciarelli, che si è tanto adoperata. Non la dedico a nessuna parte, ma la ringrazio. Grazie, Mara. E ovviamente ringrazio Renzo Gallerati, che è stato un martello per arrivare a questa conclusione. Ringrazio il direttore generale delle poste che abbiamo qui, che abbiamo qui questa sera, e al quale passo il microfono perché ci dia un saluto lui di persona. Allora, recatemi alla postazione che sta proprio a fianco alla chiesetta di Sant'Antonio, dove si riferisce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.